Gianmarco Centinaio, lei ha detto che il governo Letta si è dimenticato della cultura nel decreto legge sulla stabilità, perché? Perché per l'ennesima volta la cultura è quella che subisce i tagli maggiori, perché anche quest'anno ci saranno 50 milioni di euro in meno per la cultura, perché siamo il fanalino di coda a livello europeo per i fondi che vengono stanziati per la cultura e siamo il paese che a livello europeo potrebbe produrre più cultura e vivere di cultura e turismo. In questo momento lo 0,19% del budget dello Stato italiano viene speso in cultura. Il governo Letta ha ancora una volta perso un'occasione. La cosa che ci lascia perplessi è il fatto che durante un'intervista il presidente Letta all'intervistatore Fazio, quindi in televisione, aveva promesso che se ci fosse stato un taglio alla cultura, lui si sarebbe dimesso. E noi stiamo aspettando le dimissioni. In particolare quali sono le emergenze? Le emergenze sono soprattutto sui beni culturali, sono il contrasto alla criminalità per quanto riguarda le opere d'arte, ma soprattutto per quanto riguarda il fondo dello spettacolo. Ancora una volta il fondo del spettacolo è quello che subisce i maggiori tagli. In un momento di crisi come questo ci chiediamo come si possa fare una progettualità di questo tipo. E per ora stiamo seguendo solamente la parte sulla cultura. Quando arriveremo sulla parte sull'istruzione, parlando con alcuni colleghi, mi hanno già detto che è un altro disastro. Nelle prossime ore vedremo, però siamo un po' preoccupati.